ha fatto un buon calcio mi auguro che continuerà poi il problema di convincersi di crederci di di farlo poi la parte più discorso nel calcio logica non conta sempre ma conta sempre matematica sparita zemanlandia mo ce la faccio vedere no non sono sorpreso mi dispiace ma sempre noi sicuramente sarà un caso non sono sorpreso di agarra oggi giocato una patita da una patata oggi che si farà un cattinbo e volto a fare un cattinbo e volto a fare un cattinbo e non sai che come io Ho sempre dei dubbi sull'arbitraggio, penso che non c'erano gli estremi per fischiare Ma sicuramente il fallo c'era Speriamo di poter migliorare il giusto caro interessato Non so che dire, ho sempre visto queste cose Grazie a tutti! Grazie a tutti!